Caffè Mocca Tutorial! In tantissimi mi avete detto Daniele ce lo rifai in maniera molto più semplice E allora i tre punti, acqua sotto la valvola, secondo punto, chi è colui che la fa da padrone? È il caffè ragazzi, quindi acquistiamolo di qualità Andiamo in un negozio di cialde o dal nostro barista di fiducia vedrete che non ve lo negherà Chiudiamo per benino il caffè per una performance più duratura durante la sua conservazione Fare la montagnetta è consentito, fiamma bassa ed ecco a voi la cremina Non vi spaventate se all'inizio non si vede nella tazzina perché poi risalirà Ecco a voi le regole fondamentali, fatemi sapere come vi è venuto Ma non la vedete la succulenza?